Finalmente parte la nuova stagione di Fall Guys, andiamo nelle notifiche, come primo banner ci dice che possiamo ottenere il pass stagionale, col quale potremo prendere tutte le nuove skin. Andiamo all'evento, che è partito con la nuova stagione e terminerà il 21 settembre, in questo evento si dovranno superare i livelli, i quali ci faranno conquistare le stelline e con queste stelline prenderemo dei premi. Ecco, a non specifico andiamo in questa schermata. Il massimo delle stelle da raggiungere sono 1000 e con queste si potrà avere lo zeno orbitale. Poi con 800 si può avere il motivo missione spaziale, dopodiché con 500, 300 e 100 ci saranno premi minori. Passiamo avanti. Come potete vedere c'è il nuovo pass stagionale. Andiamo nel dettaglio. 950 si può prendere e sbloccare il pass stagionale, con 2008 si può prendere il bundle. Io prendo sicuro il pass stagionale. Anzi, facciamo una bella cosa, il pass stagionale lo prendiamo subito, perché c'è questa nuova skin che la si ritira subito. si, iniziamo a shoppare va. Si, mi piace la skin. Obiettivo sbloccato, shopping sfrenato. Ho shoppato il nuovo bundle ed ecco qui. sbloccata la skin mia o droid x mia o. E ora da qui in poi vi mostro tutti i premi che ho già mostrato in un video precedente in molto anticipo da quando c'erano le notizie sulla nuova stagione. Ed erano in versione inglese, qui ve li faccio vedere in italiano. E li troverete tutti quanti dentro il vostro, la vostra schermata della stagione 2. E li troverete tutti quanti dentro il vostro, la vostra schermata della stagione 2. E li troverete tutti quanti dentro il vostro, la vostra schermata della stagione 2. . . . . . . . Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Al 32esimo e 133esimo si prende l'elifagiolo, poi nuovamente tutti i frammenti di corona. Quindi se va avanti... A 165 si prende Nascontino nel pancino. Un'altra skin. E gli ultimi due c'è il miautroid Omega. Ok, ora vediamo... Ok, ora vediamo a livello corona. Sembra che qui... I premi... I premi... I premi... Non sembra che sia cambiato nulla. E' un'altra... qui è un'altra... E' un'altra... E' un'altra... qui è un'altra... Ok... vediamo più dettagli anche qui non mi fa girare andiamo avanti questi sono anche nuovi questi già c'erano quindi indietro andiamo avanti ok questi sono nuovi c'è l'uovo occhio di bue che non mi fa girare prima l'avevo girato c'è praticamente un uovo in testa niente nonostante provo a girarlo non si muove quindi andiamo avanti ecco qui la cintura con la telecamera rattoppato il motivo la targhetta e finish ciao al prossimo video ciao 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 ciao